Resta stabile la curva dei contagi in Puglia, 93 casi positivi nelle ultime 24 ore ed il comune Brindisino di Ceglie Messapica registra 32 contagiati nel centro di riabilitazione San Raffaele. Notte di Incendi in provincia di Lecce, 4 gli episodi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine. Vestitevi a festa e addobbate i vostri balconi, questo è l'invito dell'Arcivescovo di Lecce che ai suoi parro ci chiede di suonare alle ore 20 del giorno di Pasqua le campane a festa. E' una Pasqua insolita anche per il calcio pugliese, diviso tra solidarietà e speranza. Buongiorno, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Canale 85. Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato ieri sera la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio prossimo. Da martedì 14 aprile invece riapriranno cartolibrerie e negozi per neonati e bambini. Le misure restrittive sono prorogate fino al 3 maggio, lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa Palazzo Chigi. Se cediamo adesso c'è il rischio di ripartire da capo e rischiamo di verificare gli sforzi. Il Premier ha chiesto di tenere alta l'attenzione anche a Pasqua. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela. La proroga del nuovo decreto vale anche per le attività produttive. Dal 14 aprile aperte cartolibrerie e librerie, anche i negozi per neonati e bambini, e sarà possibile effettuare il taglio dei boschi per fornire combustibili solidi, ovvero la legna. Un gruppo di esperti dialogherà con il Comitato Tecnico Scientifico per rivedere alcuni modelli organizzativi che riguardano il lavoro e le abitudini di vita. Poi l'altro pilastro è il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende, ha detto Conte, sanifichino i luoghi di lavoro da subito. Sul fronte economico il Premier ha aggiunto che sono necessari 1.500 miliardi di euro per l'emergenza europea. Servono gli euro bond subito per l'economia, che è da paragonare a quella della guerra. Ricordatevi che il nostro obiettivo sarà sempre contenere il famoso indice di contagio, R con 0 al di sotto di 1, abbassarlo sempre più. Non possiamo permetterci una riesplosione, una ricrescita della curva di contagio. L'Italia non ha firmato l'attivazione del MES, ovvero del Fondo Salva Stati. C'è stato anche un accenno politico quando ha affermato che da Salvini e Meloni sono giunte falsità. L'Europa sta affrontando una situazione mai vista in tempi di pace. Nei prossimi giorni non fate sciocchezze. Continuate, rafforzate se possibile il convincimento, l'obbligo di seguire le previsioni che in questo periodo vi abbiamo dato. La fine è ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa, state attenti e continuate ad essere responsabili, come lo siete stati finora. Questo è quanto ha dichiarato il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Resta stabile la curva dei contagi in Puglia. Sono 93 nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore, mentre sempre nelle ultime ore c'è stata un'impennata dei decessi. 12 in un giorno. Sono 93 nuovi casi positivi in Puglia su 1724 test registrati. 16 nella provincia di Bari, 31 nella BAT, 17 in provincia di Brindisi, 20 in quella di Foggia, 8 nella provincia di Lecce, 2 in quella di Taranto. Un caso non è stato attribuito. Sono stati registrati 12 decessi, 2 a Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 nella provincia di Bari, 1 nella BAT, 3 in quella di Brindisi e 1 nella provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 27.812 test in Puglia. Sono 235 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.809, così divisi. 886 nella provincia di Bari, 243 nella BAT, 316 nella provincia di Brindisi, 721 in quella di Foggia, 403 Lecce, 208 Taranto, mentre 24 sono attribuiti a residenti fuori regione, 8 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. E diventa estremamente preoccupante la situazione nel centro di riabilitazione San Raffaele di Ceglie Messapica, dove sale a 32 il numero di contagiati da coronavirus, di cui 12 pazienti. A Brindisi sono 17 i nuovi casi positivi. La situazione all'ospedale di riabilitazione San Raffaele di Ceglie Messapica comincia a farsi preoccupante. Sale a 32 il numero complessivo dei contagiati da coronavirus nelle ultime ore. Si tratta di ben 22 pazienti e 10 dipendenti della struttura, compreso il primario. Per alcuni pazienti si sta organizzando il trasferimento in un'altra struttura sanitaria. Il primo caso accertato, quello di una fisioterapista, risale al 22 marzo, ma in quel momento, evidentemente, il contagio si era già diffuso in tutta la struttura e non è stato possibile contenerlo nonostante gli immediati interventi di isolamento. All'interno dell'ospedale sono state già istituite aree filtro e percorsi dedicati e si è in attesa del risultato di altri tamponi. 17 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Brindisi, secondo l'ultimo bollettino regionale, e tre decessi, tra cui quello di uno dei decani del giornalismo brindisino, Nuccio della Rovere, scomparso a 75 anni per le complicazioni legate a una grave patologia. Intanto è stato dimesso dal reparto di pediatria dell'ospedale Perrino il bimbo di otto anni che in un primo momento si era sospettato potesse aver contratto il virus e i cui test hanno invece, per fortuna, dato esito negativo. Ed ancora Brindisi con il comandante della Polizia Municipale o Reffice che sarebbe nuovamente positivo al Covid-19. Ancora positivo il comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Reffice. In quarantena era da prima a metà di marzo, quando gli venne effettuato il primo tampone e poi risultato positivo. Come previsto dalla Prassi, i tamponi per confermare la guarigione devono essere due, ma il secondo, arrivato nelle scorse ore, ha dato nuovamente esito positivo. I due tamponi di verifica fatti hanno dato esito diverso, nel senso il primo è il risultato negativo, lo avevo fatto una decina di giorni fa, il secondo, fatto tre giorni fa, ha dato esito purtroppo positivo. Da un punto di vista della salute non ho sintomi, nessun sintomo particolare, mi sento assolutamente bene in salute. Purtroppo però, diciamo, al di là dei sintomi, ciò che conta sono le risultanze dei tamponi, quindi degli esami molecolari che vengono fatti in questa situazione. Ovviamente il pensiero del comandante orefice torna sempre al suo lavoro e a tutti i suoi agenti e collaboratori, con i quali resta comunque in stretto contatto. In realtà non ho mai interrotto l'attività lavorativa, seppure mi trovo, diciamo, in questa situazione, in questa condizione, ristretto in una stanza, però continuo a seguire i collaboratori e a essere costantemente, continuamente in contatto con loro. Ci sentiamo molte, molte volte al giorno, un po' con tutti, insomma, oltre che con colleghi di altre città, di altre realtà, con i quali ci confrontiamo circa l'uniformità delle misure da adottare. Ed una storia di buona sanità giunge da Taranto ed in particolare dall'ospedale Santissima Annunziata. Ascoltiamo. È una storia di buona sanità quella che giunge da Taranto dove una giovane mamma in stato di inconscienza ha partorito al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Una vicenda di emergenza sanitaria che termina dunque con un epilogo felice. È la storia del piccolo Vincenzo, nato il 9 aprile, e con un parto spontaneo a termine da una donna in stato di inconscienza. La giovane mamma, soli 21 anni, accompagnata dal marito nel pronto soccorso del Santissima Annunziata, nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, in evidente stato di inconscienza. Per la paziente si era dunque resa necessaria un'urgente valutazione rianimatoria. E così il personale medico del pre-triage ha rilevato un importante episodio sincopale e convulsionante in corso, ossia uno stato di inconscienza accompagnata da sintomi di tipo epilettico. Immediatamente è stata sottoposta al monitoraggio dei parametri vitali. L'intervento dei medici e dei rianimatori, le dottoresse Doriana Benefico e Maria Procino, ha garantito alla paziente la pervietà delle vie aeree e il sostegno di circolo, provvedendo così al mantenimento delle funzioni vitali della giovane donna che versava in uno stato comatoso post-critico. Allo stesso tempo è stato necessario per la donna la valutazione ostetrica, in seguito alla quale si è constatato che il travaglio era in fase avanzata, perché la testa del piccolo Vincenzo aveva già impegnato il piano perianale. Si è proceduto così al parto, grazie al pronto intervento del dottor Simonetti, ginecologo, e della dottoressa Spina anestesista, delle ostetriche Angela ed Antonella. Il piccolo Vincenzo è venuto alla luce alle 15.57, direttamente in pronto soccorso. La giovane donna è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, affidata alle cure dell'equip del dottor Cacciapaglia, primario del reparto per l'ITAR diagnostico-terapeutico, mostrando già segni importanti di ripresa, il giorno successivo ha potuto riabbracciare il suo bimbo. Il piccolo Vincenzo è in buone condizioni di salute ed è stato affidato subito dopo il parto all'assistenza neonatale di Prassi. Un bel epilogo dunque per la mamma, protagonista della vicenda. Una nota di orgoglio per l'equip coinvolte, professionisti medici del nosocomio tarantino, il cui pronto intervento ha permesso il felice finale del caso. Un benvenuto al mondo, al piccolo Vincenzo. E cambiamo l'argomento, ci occupiamo di cronaca, notte di incendi in provincia di Lecce, e quattro gli episodi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine. Notte rovente nel Salento, l'emergenza coronavirus non ferma i piromani. Ben quattro gli episodi registrati, in alcuni casi sembra quasi accertata la matrice dolosa. A Taviano, poco prima delle 23, un incendio è interessato un'alfa Romeo Giulietta, parcheggiata in via Luigi Pirandello, di proprietà di una casalinga. Le fiamme hanno danneggiato solo la parte anteriore, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. A mezzanotte e mezza, a Presicce e in via Tommaso Fiore, sono stati completamente distrutti dalle fiamme due furgoni Renault Traffic, impegnati nel servizio di noleggio con conducente, non coperti da assicurazione. In questo caso, i caschi rossi di Tricaso e Ugento, intervenuti sul posto, hanno potuto fare ben poco. Per le indagini sono sopraggiunti gli uomini dell'arma e gli agenti del commissariato di Taurisano. A Supersano, intorno a Luna, lungo corso Emanuele, un incendio è interessato una Nissan Qashqai, un'ora dopo a Nardò, in via Arturo Santo, in fiamme una Fiat 600. E nella giornata di ieri, nell'ambito dei controlli per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus che ha imposto l'applicazione di misure restrittive sulla circolazione delle persone, sono state controllate dalla Questura di Lecce 168 persone, 13 delle quali sono state sanzionate per non aver rispettato i divieti e tra queste 5 denunciate in stato di libertà. Un grande servizio, quello offerto dalle forze dell'ordine in questo periodo di emergenza. La Guardia di Finanza, in prima linea, è chiamata a svolgere un lavoro straordinario oltre al consueto, un impegno che merita sicuramente una riflessione. Hanno raddoppiato gli sforzi, sono scesi in trincea, impegnati con tutte le loro energie nella guerra contro il nemico invisibile. Sono le nostre fiamme gialle, ogni giorno lottano in prima linea con tutte le altre forze dell'ordine. Loro sono abituati a combattere, ma ora sono costretti a fare controlli con posti di blocco, ispezioni mirate. Hanno il dovere di evitare assembramenti per azzerare il contagio. Preserva te e chi ti circonda. Con l'arrivo della primavera è tanta la tentazione di uscire, ma dobbiamo essere altruisti, perché questo virus viene sconfitto proprio con l'altruismo. Non infettarsi per non infettare. Anche chi è per strada, ha paura di contrarre l'infezione, c'è chi è costretto ad uscire per il bene di tutti, andando al lavoro. Spetta a noi aiutarli, finché davvero vada tutto bene. Con il personale sanitario sono gli eroi del momento. Il loro contagio e il loro esempio uniscono tutti i cittadini responsabili nella lotta contro il virus. Oltre a garantire la nostra sicurezza, stavolta devono indurre a comportamenti virtuosi un plauso alle nostre fiamme gialle. Aiutaci ad aiutarti. Addestrate per il rispetto della legalità e per aiutare gli altri. Andrà tutto bene. Uniti supereremo ogni ostacolo. Buona Pasqua, Italia. Ed andrà tutto bene ed in campo in questo periodo difficile di emergenza anche la Polizia di Stato. Ascoltiamo. Una celebrazione inconsueta, quella del 168esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. A Taranto, il questore Berassai ha deposto insieme con il prefetto Martino una corona ai piedi del monumento ai caduti che si trova all'interno del piazzale della caserma di via Palatucci. Poi una videoconferenza per illustrare il momento che sta attraversando la Polizia per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Abbiamo chiesto al questore di Taranto qual è l'atteggiamento dei tarantini alla luce di quelle che sono le restrizioni disposte dalla Presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi l'obiettivo è quello di uscire da questa crisi sanitaria. Ma Taranto deve mirare a diventare una città di largo respiro. Mettersi dietro una storia che è stata fatta di grandi criticità e di grandi difficoltà che tutti ben conosciamo. Per farlo bisogna lavorare tutti insieme tutti insieme nella medesima direzione e mi pare che questo stia avvenendo che ci sia la volontà da più parti istituzionali e non di remare verso il bene comune. La Polizia di Stato c'è vuole dare il suo contributo e sicuramente lo darà. Riti della Settimana Santa del tutto particolari quest'anno ed allora un venerdì senza processione. Il venerdì santo era per Brindisi il giorno delle processioni al Calvario che partivano dalle varie chiese del centro una ogni ora poi unificate in una unica processione serale guidata dall'Arcivescovo. La chiesa cattedrale prima del rito dell'adorazione della croce alle ore 15 ha voluto ricordare la morte di Gesù con la preghiera speciale dell'ora media celebrata con la croce nel portone della chiesa rivolta verso Piazza Duomo ovviamente deserta un modo per coinvolgere la città ed unirsi nella preghiera che guarda la croce non come fine ma come passaggio verso la resurrezione. in questo periodo ragionare e vivere la croce ci aiuta a contemplare Gesù Cristo in maniera differente e quella croce è davvero come croce gloriosa come anticipo di resurrezione lo stiamo sperimentando e sperimentiamo anche con sofferenza il distacco da questi momenti proprio di comunità tu dicevi prima non le processioni e le stiamo vivendo in maniera differente portare a Gesù la nostra vita con tutte quelle sofferenze che ci sono ma con tutta quella speranza di resurrezione non ci fermiamo a guardare il problema ma già intravediamo la risoluzione la risurrezione e questo è la nostra fede questo ci insegna la nostra fede e questo vogliamo che passi in tutti gli auguri che ci facciamo cioè che la croce è un passaggio a qualcosa di più grande di più bello di resurrezione vestitevi a festa e addobbate i vostri balconi questo è l'invito dell'Arcivescovo di Lecce che i suoi parroci chiede di suonare alle venti del giorno di Pasqua le campane a festa addobbate di colori i vostri balconi le vostre terrazze le finestre le porte lungo le scale le scale dei condomini specie con i disegni dei bambini fatelo nel giorno di Pasqua è l'invito che Monsignor Michele Seccia Arcivescovo di Lecce ha rivolto al suo popolo nonostante le restrizioni l'aria di festa non potrà rimanere nel chiuso delle vostre case un solo messaggio buona Pasqua ditelo come vi piace a vostro gusto un messaggio semplice per i vicini di casa per qualche sparuto passante scattate e condividete sui social le foto in famiglia con gli abiti della festa e Pasqua un invito l'Arcivescovo Seccia lo lancia anche ai suoi parroci nel giorno di Pasqua alle 20 sciogliete a festa le campane delle chiese per far risuonare la gioia del giorno di Pasqua in tutte le nostre comunità la gioia dello stare insieme che ci manca tanto in questi giorni e circa 60 le persone che saranno ospitate nel giorno di Pasqua nella mensa dei poveri della chiesa San Pio X l'impegno dei volontari della protezione civile a Taranto ecco vedete si sta allestendo tutto quello che servirà per il giorno di Pasqua siamo nella mensa dei poveri della chiesa di San Pio X che è molto rinomata a Taranto Angelo Dimitri è responsabile di questa mensa cosa state preparando per i poveri i meno abbienti di Taranto e provincia per domani per il giorno di Pasqua come il giorno delle palme stiamo organizzando finalmente gli darremo ai poveri un po' di pasta farò della pasta al forno con poi praticamente delle schiacciettine di carne perché hanno bisogno di sono dal 10 di marzo che mangiano panini quanti ospiti avrete nel giorno di Pasqua qui in questa mensa dei poveri in genere il numero è sulle 55-60 persone di tutte le età sì 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 di tutte le età extracomunitari pure 5-6 di loro e con lei frequenta questa mensa per i bisognosi da quanto tempo sono 8 anni che c'è che vivo per strada ma per non c'è una casa come vivrà questa Pasqua non lo so spero non lo so spero a Gesù che mi dà una mano ci sono persone che vivono per strada come me hanno bisogno di aiuto l'apprezzamento maggiore va rivolto senza altro agli imprenditori innanzitutto che ecco si prodigano verso la povertà della nostra città ed oltre a loro i volontari che voi sono sempre presenti in questi giorni vi devo dire che stiamo facendo davvero tantissime consegne siamo passati dai medicinali a dei farmaci anche salvavite siamo passati a delle spese alimentari ci hanno offerto sempre imprenditori locali ed ora ascoltiamo i consigli per un pranzo di Pasqua ecosostenibile sono cinque i consigli utili per una Pasqua sostenibile senza sprechi ad offrirli nel periodo dell'emergenza coronavirus e di una festività rivoluzionata nelle nostre tradizioni nel rispetto delle precauzioni in vigore è l'app contro lo spreco alimentare Too Good Too Goo in occasione del pranzo di Pasqua con l'obiettivo di una maggiore sostenibilità e consapevolezza nei consumi l'app suggerisce dunque come primo consiglio di scegliere prodotti a chilometro zero e di stagione non solo perché aiuta l'economia locale e per un fatto nutrizionale ma anche per garantire e ridurre l'inquinamento dovuto al trasporto indica inoltre di fare la spesa in modo consapevole non solo per evitare imballaggi inutili e acquisti eccessivi ma per acquistare lista alla mano solo il necessario riducendo sprechi e viaggi verso il supermercato un altro consiglio è prestare attenzione alle date di scadenza così da non acquistare cibi che deperiranno prima del loro effettivo utilizzo si consiglia poi di congelare o riutilizzare in modo creativo il cibo avanzato e di imparare a leggere le etichette per evitare sprechi distinguendo la data limite di consumo ossia la data oltre la quale i cibi non sono più considerati adatti all'alimentazione con il termine minimo di consumo spesso contraddistinto dalla dicitura da consumarsi preferibilmente entro infine si segnala di conservare i cibi nel modo corretto per evitare sempre gli sprechi sia prima che dopo il pranzo pasquale e dalla vigilia del giorno di Pasqua si sono notate lunghe code dinanzi ai supermercati e ai negozi di generi alimentari abbiamo dunque provato a comprendere lo stato d'animo della gente nonostante le difficoltà del momento sono molti i tarantini che non vorranno rinunciare al tradizionale pranzo pasquale infatti abbiamo notato lunghe code dinanzi ai supermercati e nei pressi degli esercizi commerciali di generi alimentari è la prima ricorrenza importante durante questo periodo del coronavirus ma i tarantini vorranno viverla rispettando le tradizioni abbiamo provato a raccogliere le opinioni della gente per strada allora che cosa stanno acquistando i tarantini per il pranzo di pasqua allora al momento sono riversati tutti nei supermercati ti devo dire la verità c'è un grandissimo calo bisogna adattarsi con quello che c'è chiaramente si cerca di seguire le tradizioni agnello nonostante l'emergenza covid comunque non si rinuncia all'agnello e al pranzo di pasqua vero? si cerca chiaramente almeno di mantenere un certo tipo di atmosfera pranzo di pasqua di pasqua poco vediamo quello che riusciamo a comprare 50 euro anche o di più ci manteniamo sulla 50 pasta al forno agnello uova di pasqua uova di pasqua si pasta al forno vediamo giusto una pasta al forno punto basta agnello no assolutamente no mi scusa ancora non ho idea di che cosa devo preparare sicuramente una lasagna e beh si che vuole posso togliere la mascherina non riesco a vedere comunque non ci sarà nulla da soffrire voglio dire lei per pasqua farà un pranzo tradizionale come sempre un pranzo normale sì ovviamente saremo in pochi soltanto io mio marito e mio figlio perché magari a noi piace sai la famiglia però non possiamo allora facciamo il menù lasagna agnello agnello ovviamente e poi insomma gli antipasti contorni un po' di tutto dolce tutto quello che comunque si può ed a Lecce uova e colombe per tutti assicurati dagli angeli di quartiere a Lecce in questa particolare Pasqua e Pasquetta c'è chi si sta adoperando per garantire a tutti un uovo di Pasqua o una colomba per chi è in difficoltà e non ha l'opportunità o fisica o economica di recarsi presso un supermercato per acquistarne una e quindi c'è la possibilità attraverso gli angeli di quartiere di garantire un dono a tutti quanti sentiamo come si stanno organizzando queste associazioni e il territorio salentino per garantire a tutti un sorriso in questa difficile Pasqua Presidente vi state dando veramente un grande affare per aiutare la città ma quanto aiuto sta arrivando anche dalla città tantissimo veramente onore e rispetto a tutti coloro che hanno voluto esserci sin dal primo momento noi come associazione siamo presenti da tre anni sul territorio e facciamo esattamente quello che stiamo facendo qui da ormai venti giorni solo che lo facevamo per 50 persone siamo arrivati adesso a contarne 2.000 2.100 quindi veramente sono state giornate intense e abbiamo toccato con mano la generosità dei decesi che cosa state organizzando per due giornate particolari quelle di Pasqua e di Pasquetta ci sarà un menù particolare per essere vicino a chi sta vivendo questo momento di difficoltà il menù quello essenziale credo che sia quello più saporito è quello di dare il nostro augurio alle famiglie sperando di aver toccato tutta la fragilità della città e noi riposeremo insieme a tutti i volontari che sono stati presenti sul campo veramente una squadra eccezionale abbiamo fatto rete con tante associazioni e questa è la nostra grande ricchezza quindi io credo e sono sicura che quasi tutte le famiglie di Lecce avranno la nostra colomba il nostro uovo i bambini credo di non averne lasciato veramente nessuno e chi magari resterà fino all'ultimo anche stasera fino alla mezzanotte consegneremo ancora buste, alimenti e uova per i bambini ed ancora Lecce perché nella città barocca è pronto un piano antipartenza verso il mare in campo dunque 12 pattuglie della Polizia Municipale e 3 droni già attivi dalla giornata di oggi pattuglie sulle vie per il mare droni nel cielo per monitorare che cosa accade su terrazzi e giardini sarà praticamente una Pasqua ma soprattutto una Pasquetta sotto controllo è fortissimo l'impegno delle forze dell'ordine impegnate in questi giorni a far rispettare le misure emanate dal governo in questo periodo di lockdown che perdurerà fino al prossimo 3 maggio ne abbiamo parlato con l'assessore del comune di Lecce Sergio Signore quali sono le misure organizzative da parte della Polizia Municipale per le giornate di Pasqua e Pasquetta avremo dei controlli serrati precisamente 12 pattuglie la mattina 12 il pomeriggio e 6 di notte naturalmente ci saranno anche altre pattuglie in accordo con Costura Carabinieri e Guardia di Finanza ci sarà particolare attenzione per quello che riguardano le strade che portano alle marine leccesi e la viabilità che porta verso il mare soprattutto già da oggi ci saranno dei controlli serrati all'ingresso di Torre Chianca Frigole Torre Rinalda e San Cataldo ovviamente ci sarà anche l'utilizzo del drone che permetterà di monitorare eventuali ulteriori spostamenti in accordo anche con la Polizia Provinciale abbiamo tre droni precisamente uno dell'ufficio ambiente uno della Polizia locale e uno della Polizia provinciale ed ora ci spostiamo nuovamente a Taranto per parlarvi di alcune donazioni all'ospedale Moscati una maxidonazione da parte del sindacato della Polizia di Stato FSP il cui segretario provinciale Rocco Caliandro donati 30 quintali di generi alimentari di prima necessità pasta latte e pomodori pelati sono stati distribuiti presso la parrocchia San Francesco De Geronimo al rione Tamburi alla Caritas Diocesana gestita da Don Nino Borsci alla presenza dell'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto Gabriella Ficocelli i generi alimentari saranno distribuiti anche nelle città di Grottaglie Martina Franca e Manduria dove la Polizia di Stato ha dei presidi come comune di Taranto ovviamente non possiamo che intercettare questi gesti questi atti di solidarietà così grandi per cercare anche di coprire l'intero territorio ecco perché oggi siamo qui nella chiesa di Don Nino Borsci ai Tamburi proprio per poter raggiungere anche le famiglie di questo quartiere è chiaro che si tratta di un dono graditissimo che senz'altro andrà a favore di tante famiglie che stanno bussando alla nostra porta un bel gesto devo essere sincero c'è stata disponibilità di tutti i colleghi noi come organizzazione sindacale tuteliamo i colleghi nei propri diritti quindi in ogni caso in questo contesto abbiamo dovuto dare invece un risvolto sociale con questa raccolta che grazie alla Granoro e alla Granarolo che non finiremo mai di ringraziare ci hanno potuto dare questi alimenti pasta latte pelati che abbiamo donato ai servizi sociali e alle associazioni dei comuni di Taranto Grottaglie Martina e Manduria ed è tutto il nostro telegiornale termina qui grazie per averci scelto per averci seguito non andate via perché adesso una breve pausa pubblicitaria e a seguire il Tg Sport grazie a tutti grazie a tutti